Ciao e bentornati sul mio canale YouTube. Spaccata? Seguimi in questo video! Oggi facciamo un allenamento per chi vuole imparare la spaccata ma è davvero molto rigido. Se ti trovi in questa situazione, questo è il video adatto per partire. Ripetilo per almeno un mese, fammi sapere se hai dei risultati, che sicuramente ce li avrai se sarai costante e poi potrai partire con altri video un po' più strong, un po' più mirati che trovi nel mio canale YouTube o perché no con un percorso personalizzato in base alle tue caratteristiche per raggiungere il tuo obiettivo. Seguimi! Allora, ci mettiamo a gambe divaricate, piedi leggermente extra ruotati, mani sopra le ginocchia e andiamo a piegare le gambe e poi a stendere il busto circa fino a 90 gradi. Siete molto rigidi? Va bene, anche un pochino più in alto. Andiamo a iniziare a riscaldare i femorali. Uno. E in questo esercizio è veramente molto importante che la zona lombare rimanga piatta, quindi fare così non ci servirà nulla, ma mi allungo bene. Cerco di far spuntare una codina. E vado. Due. Tre. Quattro. Esercizi fatti in maniera lenta e mai scattosa. Sette. Oto. Nove. Dieci. Durante l'esercizio, inspiro e butto bene fuori l'aria. Ok? Ora ci aiuteremo con dei rialzi. Questo è uno step così basso. Posso metterne anche uno sopra l'altro per alzarlo un pochino in base a quanto rigidi siete. Più rigidi siete, più avrete bisogno di un rialzo un pochino più elevato. Ora. Mani. Sopra rialzo. Da questa posizione sposto il bacino a destra e poi il bacino a sinistra. Andiamo ad allungare liquide. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. E adesso sempre con le mani sopra rialzo, vado a piegare le gambe. Porto verso fuori le ginocchia, anche i piedi sono extra ruotati. E da questa posizione vado a stendere il tiro alla testa. Uno. E butto fuori l'aria ogni volta. E torno giù. Due. E torno giù. Tre. E giù. Quattro. E giù. Cinque. E rimango. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E stop. Ora. Mettiamo un piede sopra rialzo. Questo non mi serve. Ci mettiamo in affondo. E da questa posizione facciamo dieci molleggi. L'obiettivo sarà cercato di portare il bacino più verso il pavimento possibile. Quindi non mi servirà nulla fare questo e sollevarmi. Questo non serve a niente. Ma nella mia posizione in cui sento già tirare, cercare di allungarmi verso il basso. Mantenendo la gamba dietro ben distesa. Via. Uno. Due. Tre. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. E ora. Appoggio i ginocchi e il piede dietro. Controllo sempre che il numero 9 è il tuo prima. Il ginocchio sia perpendicolare al tallone. Quindi non va bene mentre si è in questa posizione. È dannoso. Inveglielmo in questa posizione. Da qua. Stendo il ginocchio dietro. E torno sui ginocchi a terra. Senza fare questo. Non ripeto, non ci serve a niente. Ma ogni volta che stendo il ginocchio, cercherò di spingere il bacino verso il suono. Via. Uno. E giù. Due. E giù. Tre. E giù. Quattro. E giù. Cinque. E giù. Sei. E giù. Sette. E giù. Otto. E stop. Adesso cambiamo gamba. Ripetiamo lo stesso esercizio con l'altra gamba. Iniziamo in posizione di affondo. Dieci spinte verso il basso. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Appoggio il ginocchio. E vado. Uno. E giù. Due. E giù. Tre. E giù. Quattro. E giù. Cinque. Giù. Sei. Giù. Sette. Giù. Otto. E giù. Come vedete vi consiglio sempre di allenare entrambe le gambe. Una gamba probabilmente sarà più giù dell'altra. Però cerchiamo di non creare squilibri. Ora ci aiutiamo con due rialzi. Quindi una verso e una sinistra. Da questa posizione partiamo in affondo. E da qua andiamo a distendere la gamba davanti. Cortando il peso sul tallone dietro. E poi torniamo in posizione. I rialzi mi aiutano perché sarebbe difficile mettere mai direttamente a terra. Ok. Pronti? Devi otto volte. Uno. Molto lentamente. E scendo due. E scendo uno scusate. Due. E scendo due. Tre. E scendo tre. Quattro. E scendo quattro. Cinque. E scendo cinque. Vado su in questa posizione. Butto fuori l'aria. Respiro bene. Sei. E scendo sei. Sette. E scendo sette. Otto. E rimando in questa posizione. Ora sposto il peso avanti. E torno con il peso sul tallone indietro. Otto volte. Bilancio. Uno. E uno. Due. E due. Tre. E tre. Quattro. E quattro. Cinque. Cinque. Sei. Sei. Sette. Sette. Otto. E otto. Cambio gamba. Ok. Se ho davanti la gamba destra. Come avrò messo adesso in questo momento io. Dovrò cercare per mantenere le anche allineate. Di spingere indietro l'anca destra. Quindi l'esercizio non va a far tutto storto. Ma con le anche allineate. Per fare questo cerco di unire le cosce e di spingere indietro l'anca di riferimento della gamba davanti. Ora cambio gamba. Ripeto l'esercizio con la sinistra. Posiziono le mani in su rialzo. E vado. Uno. E uno. Movimenti controllati. Due. E butto fuori l'aria. E scendo al mio massimo. Tre. Ispiro. E tre. Quattro. E quattro. Dove penso di essere al massimo? Invece ho ancora un centimetro di discesa. Cinque. E cinque. Sei. E sei. Sette. E sette. Otto. E rimango. Avvicino un po' i piedi. E vado. Sposto avanti. Uno. E uno. Torno. Due. E due. Torno. Tre. E tre. Torno. Quattro. Quattro. Cinque. Cinque. Sei. Sei. Sette. Sette. Otto. E otto. Va bene. Adesso mi posiziono con il piede sopra al rialzo. Ok. In questa posizione. E da qua andrò a piegare il ginocchio e a distenderlo per otto volte. E vado. Uno. Uno. Due. Due. Questa volta l'angolo è leggermente più aperto. Tre. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Cinque. Sei. Sei. Sette. Sette. Otto. E otto. E cambio gamba. Non facciamo pause in modo che l'alento sia breve perché nessuno ha mai tempo, però intenso ed efficace. Angolo ottuso. E vado. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Cinque. Spingo sempre il bacino verso il basso. Sei. Sei. Sette. Sette. Otto. E otto. Vado a lavorare a terra. Ora, una gamba davanti distesa, l'altra flessa dietro, accoggiamo le mani a terra e facciamo dieci molleggi del busto verso la gamba davanti distesa. Via. E butto fuori. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ora semplicemente ruoto il busto verso il centro e facciamo dieci molleggi al centro. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. E adesso cambiamo gamba. Mi giro di qua. Non vedete meglio. Ok? La porto dietro al vostro massimo. Mani davanti, una destra e una sinistra. E vado. Dieci molleggi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Non vedete una cosa? Se siete molto rigidi, la gamba dietro mi arriverà qua. Probabilmente sarete messi così. No problem. Ognuno ha il suo punto di partenza. Poi le schede personalizzate servono proprio andare a fare un lavoro specifico in base alle esigenze della persona. Però questo video per partire va sicuramente molto bene. Mi sposto al centro e vado. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Se ve l'importante è capire che muscoli avete più rigidi e se anche c'è da fare un lavoro magari sulle anche. Sette. Ora mi siedo sopra al rialzo. In questo caso ho uno step. Divario fuori gambe. Lo step mi evita a spingermi con il busto in avanti. A caricare quindi il tuo peso in avanti. Mani a terra, più distante possibile dove arrivo e da questa posizione facciamo dieci molleggi. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Otto. Nove. Dieci. E ora ne facciamo dieci a destra e dieci a sinistra. Vado. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dall'altra parte. E vado. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E ora torno con i miei due bei rialzi. E posiziono uno di qua e uno di là. Ci siamo veneri scaldati per andare a spingere un po' sulle spaccate. Quindi come prima cosa cerchiamo di mantenere la gamba davanti un po' flessa, ok? Mentre quella dietro ben distesa. Da questa posizione facciamo dieci molleggi. Mento proprio con le spalle a spingere verso il basso. Metto anche laterale così vedete come mi vedete meglio. Faccio lo stesso esercizio e amicidoro di qua. Ok. Appoggio bene le mani. Le spalle devono aiutarmi a spingere verso il basso. La gamba davanti rimane piegata. E vado. Uno. Due. Tre. Butto fuori il water swing. Off. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E ora provo a distendere al mio massimo la gamba davanti. E altri dieci molleggi con la gamba distesa. Ora io adesso andrei giù, ok? Però rimango alta posta per mostrarvi il movimento. E vado. Uno. Le spalle svingono. Due. Butto fuori. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ora penso a qualcosa di bello. Alla montagna non mi piacerebbe stare. E mantengo la posizione 20 secondi. Uno. Due. Lo so. State un po' soffrendo. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Dai che manca poco. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici. Diciasette. Diciotto. Diciannove. E venti. E adesso ripeto l'esercizio sull'altra gamba. Questa volta mi metto frontale a voi. Così avete entrambe le inquadrature. La stessa identica cosa ma con l'altra gamba. Io primo uso la destra e quindi io ruserò la sinistra. Mi raccomando. È importante lavorare sempre con entrambe le gambe. Vi ricordo gamba davanti flessa. Angolo ottuso. Ok. Da questa posizione. Con le spalle mi aiuto a spingere il bacino verso il basso dieci volte. Ogni volta che spingo verso il basso. Espiro. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Non salgo mai nel tutto. Sei. Sette. Otto. Risalgo sempre meno. Nove. E dieci. E ora provo a stendere la gamba davanti. Più che riesco. E altri dieci molleggi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Abbiamo gli ultimi venti secondi di oggi. Diciannove. Diciotto. Diciansette. Rimango statico. Sedici. Quindici. Quattordici. Tredici. Dodici. Undici. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Non è che manca poco per resistere. Quattro. So che ce la puoi fare. Due. Uno. E stop. L'allenamento di oggi è concluso. Commenta sotto se ti è piaciuto o se hai bisogno di qualche altro consiglio. Ciao. 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 Grazie a tutti.